Amici, retroscena registrazione 2302, Zerbi chiede Mezcal possa rientrare a settembre. Le anticipazioni sulla nuova puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi registrata il 23 febbraio riportano l'eliminazione di Mezcal. Allievo di Rudy Zerbi, proprio il coach però, chiederà a Maria De Filippi che il 18enne possa ritornare nella scuola a settembre. E' chiesta accolta dalla conduttrice pavese. Eliminato ad un passo dal serale anche il ballerino Pachi per volere di Alessandra Celentano. Colpo di scena nella nuova puntata di Amici, registrata il 23 febbraio. Puntata che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di domenica 26 febbraio. Ebbene, scorrendo le anticipazioni apparse in rete, si è venuti a sapere che due allievi sono stati eliminati ad un passo dal serale. Si tratta del ballerino Pachi, allievo di Alessandra Celentano e del cantante Mezcal. Allievo di Rudy Zerbi. Da ricordare che il cantante 18enne, era entrato solo un paio di settimane fa proprio per volere di Rudy. Il poco tempo a disposizione non ha permesso evidentemente a Mezcal di convincere il suo professore, niente serale per lui. Ecco però che è spuntato un retroscena riguardo proprio a Mezcal. Rudy Zerbi infatti. Nel corso della registrazione, ha chiesto a Maria De Filippi la possibilità che il 18enne possa ripresentarsi ad Amici a settembre. Proposta accolta dalla conduttrice. Questo anche perché, obiettivamente, Mezcal non ha avuto nemmeno il tempo di ambientarsi nella scuola. A questo punto, viene da chiedersi come mai Zerbi lo abbia voluto inserire nella sua squadra a pochi giorni dall'inizio del serale. Forse proprio il coach si è reso conto dell'errore ed ecco il motivo per il quale ha chiesto a Maria di potergli dare una seconda chance nella prossima edizione del Talent. Coglie invece un po' di sorpresa l'eliminazione di Pachi, visto che da quando è entrato, ha sempre avuto giudizi alquanto positivi. Evidentemente la maestra Celentano non lo ritiene pronto per il serale di Amici. Proprio in vista della fase finale del programma, sono state assegnate ben cinque maglie dorate. Nella puntata che andrà in onda il prossimo 26 febbraio, i telespettatori vedranno Samu, Wax, Federica, Alessio e Mattia a conquistare un posto al serale. Ancora in bilico altri allievi. Come ad esempio Piccolo G e Aaron, entrambi della squadra di Rudy Serbi, l'unico prof a non aver ancora assegnato nessuna maglia. Bisognerà aspettare la prossima registrazione per sapere se entrambi conquisteranno l'ambita maglia color oro. Era broke si se usa de aerosol, de cand avea mall, de cand nu stiai ce un niscol, de cand ascultam gangsta rapper, baza pe pistol, daca nu intelegi textul suna-o pe Irina Nistor, va intalniti in tristor, la zero grade viscol, nu tac nici stins mort, o sa ma aus prin sol, transpir hip-a prin pori, bile mari din tor, ca stii ca dupa trimit ciocan umane, înspre cer si dau jos carul mare, astrologia-o treaba ca urmare. Sunt dus cu capul, dus cu capul, zic, jos patez cu jos ponta, sus cu rapul, ambitie, traditie, asta m-a dus cu rapul, de cand mai toti ziceau.